Una scelta che mostra il rispetto per la vita. La definisce così Giuseppe Carbonara, portavoce dei testimoni di Geova in Puglia e Basilicata, la decisione di svolgere online l'annuale congresso religioso che paga anch'esso lo scotto dell'emergenza coronavirus. Quella dei testimoni di Geova è una realtà religiosa dalla sorprendente mole che ha impressionato per partecipazione e capacità organizzativa negli anni recenti. Dallo stadio San Nicola ai padiglioni della Fiera del Levante, i credenti hanno mostrato grande voglia di prendere parte ai congressi riempiendo strutture sempre più grandi. Da non trascurare il riverbero sull'economia locale, questi congressi hanno rappresentato negli anni recenti un apprezzabile movimento turistico per strutture ricettive quali alberghi e ristoranti. Tutto ciò è venuto meno quest'anno causa Covid, ma la scelta di tenere comunque online il congresso ha avuto il pregio di facilitare e quindi aumentare la partecipazione. In 35.000 hanno preso parte al congresso virtuale, molti altri possono aggiungersi attraverso il sito jw.org che è anche uno dei siti internet più tradotti al mondo, visto che i contenuti sono disponibili in 360 lingue. Rallegratevi sempre è il titolo dato all'incontro virtuale di quest'anno.